Amici, oggi siamo a Napoli, il 3 dicembre 2012, dietro di me il colpo di Napoli e il Vesuvio, come ho consegnato un nuovo documento sui cambiamenti climatici, sul Nibiru, proprio oggi a Napoli, 3 dicembre 2012, generale a Gionnini, momento del cambiamento, momento della trasformazione, eccomi per ritornare alla città di mia madre, ai miei nonni e questo cambiamento viverlo proprio nettamente, come di consueto mi faccio vedere alla rama, ho preso la borsa, ecco il golfo di Napoli col Vesuvio Montessò, matri dal cavallo, adesso zoomiamo ecco il Vesuvio, 3 dicembre 2012, da Napoli, Gennaro Gionnini Napoli, 3 dicembre 2012 un bel panorama sul Vesuvio, Montessò, matri dal cavallo, da Napoli panorama da cartolina, 3 dicembre 2012, Gennaro Gionnini cari amici, riconosciate dove sto, dove sono? il 3 dicembre 2012 e sono a Napoli a consegnare un nuovo documento, un nuovo esposto, sempre su Nibiru, sui cambiamenti climatici e sto a Napoli, il Vesuvio, il volpo di Napoli il tempo è breve perché faccio sempre più cose possibili nel meno tempo possibile e tutto ci può fare la trasformazione, il tempo della trasformazione, il tempo del rinnovamento è giunto ed era doveroso tornare anche in questa città dove è nata mia madre, io sono Gennaro Gionnini e mia mamma Anna Rinaldi, la conoscete tutti per il suo blog e lei è di Napoli era giusto che tornassi in questa città ho approfittato per accompagnarla dai parenti e naturalmente di nuovo ho scritto sia un po' di traffico, un po' di casino, un po' di rumori, è una città di 3 milioni di abitanti non potrebbe essere diversa sentiamo il 3 dicembre 2012 da Gennaro Gionnini a Napoli adesso ve la faccio vedere naturalmente un istante di tempo fatemi prendere le cose ho avuto allora il bellissimo Golfo di Napoli col Vesuvio adesso io vi faccio un ingrandimento lo vedete adesso il Vesuvio ieri era 2 dicembre, pioveva adesso 3 dicembre è proprio una bellissima giornata le nuvole sono andate verso sud ed è una bellissima giornata 3 dicembre 2012 il Golfo di Napoli Napoli tutta Napoli col Vesuvio naturalmente vedete la cima del Vesuvio poi i latri del cavallo Montessomma tutto il Vesuvio Napoli siamo vicino a Via Santa Lucia se proprio interessa all'imboccatura di Via Santa Lucia i vari palazzi storici di Napoli beh preservando la privacy naturalmente Napoli ecco vi saluto una bellissima giornata tra poco tornerò a Varese e continuerò i miei studi anche là devo sempre andare avanti più cose possibili nel minor tempo possibile questo è ciò che sto facendo da 13 anni e mezzo come quel corridore là lontano da 13 anni e mezzo da questa parte sempre correre però ho fatto bene sono contento così vediamo lo zoom non volevo essere troppo frettolato ma devo fare ancora le ultime consegne sto consegnandolo proprio adesso e quindi il massimo che potevo fare dopo tanti viaggi in mezzo a Italia viaggio all'estero viaggio dappertutto a Napoli ero già stato ma si parla di diversi anni fa ecco trovare a Napoli più spavere col bel mesuvio con tutto quello che ci riguarda ciao alla prossima ciao tramonto a Napoli 3 dicembre 2012